Un uomo di 43 anni residente a Piazza Armerina è rimasto ferito in un incidente sul lavoro, dopo che una gamba gli è rimasta incastrata all'interno di un macchinario per sbucciare le mandorle. A causa dell'incidente il 43enne ha riportato diverse fratture alla gamba. Il fatto si è verificato in un'azienda agricola di Piazza Armerina e la situazione è apparsa subito seria ai colleghi dell'uomo, i quali hanno allertato immediatamente i soccorsi. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare alacremente per liberare lo sfortunato operaio dalle lamiere. Vista la gravità della situazione, a Piazza Armerina è atterrato anche l'elisoccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove l'uomo è stato trasportato per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il 43enne ha adesso ottenuto sotto osservazione dai medici dell'ospedale Nisseno e la situazione sembra essere sotto controllo.